25 opere risalenti epoche diverse dal V al XVII secolo a.C. È il tesoro recuperato nell'ambito di una serie di operazioni per la tutela del patrimonio culturale condotte in modo congiunto da Italia e Stati Uniti nell'arco degli ultimi anni. Gli artefatti e i reperti, il cui valore complessivo ammonta a svariati milioni di euro, sono stati trafugati o sottratti a denti, chiese e musei italiani e rivenduti sul mercato nero negli Stati Uniti. Tutte le opere, dalla bella addormentata, un sarcofago in marmo recuperato a New York, ad un vaso etrusco rinvenuto a Cleveland, fino ad un cannone di bronzo del XVII secolo finito a Boston, sono state restituite all'Italia durante una cerimonia ufficiale alla quale hanno preso parte tra gli altri l'ambasciatore americano John Phillips e il ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini nel quartier generale del nucleo tutela patrimonio culturale dell'arma dei carabinieri. This event today was important because it draws attention to what is a pretty widespread problem of $9 billion a year profit being made in this illicit trade. That's a lot. That's a lot. So the more attention we can bring to bear on this through events such as this and cooperative efforts with the Italian government and American government and show the fruits of the efforts, the more likely we are to get an increase in enforcement of this in future. Dal 2007 più di 7000 reperti sono stati riportati nei paesi di provenienza ben 30, tra questi l'Italia con cui gli Stati Uniti hanno uno stretto rapporto di cooperazione in materia di lotta al crimine organizzato. Un rapporto che può davvero considerarsi speciale. che quanto spessi riportati è insieme afezzi不好 all'indeczato all'ambiente France non ne Tack